Massimiliano Cicali, si sei fatto la fama di pari a rigori, ormai i tiri di rigore per te sono una sciocchezza. La sciocchezza no, però diciamo che sta andando molto 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 bene, non mi aspettavo neanche io di, diciamo per come avevo cominciato l'annata con i rigori, di avere questo spicco. Senti, hai una tecnica particolare perché vediamo ti accovacci e poi allarghi le braccia che sono un'apertura all'area e non indifferenze, è questa la tua tecnica oppure studi chi tira i rigori? La tecnica non si dice, no scherzando, scherzi a parte, si fondamentalmente più che l'aprire le braccia è l'andare a studiare un po' come tirano i rigori, poi certo ogni rigore è a sé, perché il rigore a parere mio si c'è la bravura del portiere ma c'è anche l'errore dell'attaccante. Senti, questa Rari sta dimostrando di essere una squadra di assoluto valore perché poi dopo c'è stata la scorrettezza di Sanchez che indubbiamente vi ha favorito, però c'è un tolto orecco, Brescia, sono partite molto equilibrate tutte. Sì, come ho detto anche settimana scorsa appunto, quest'anno c'è a parte quelle due squadre secondo me, le altre partite ce le giochiamo tutte, non c'è la squadra Cuscinetto, non c'è la squadra più forte. Senti, un pensierino lontanissimo alla nazionale lo fai oppure la vedi lontana, una chimera, un sogno? Io lo faccio già da un po', fondamentalmente però non dipende da me, da me dipende l'impegno e il fare bene, che toccando ferro appunto sta andando bene il tutto, speriamo che lo notino dei piani alti. Intanto noi siamo contenti di avere il numero uno della Rari Nantes Florenzia, ce l'hai sulla maglia, ce l'hai sulla calottina e ci coccoliamo, Massimiliano Cicali, Fiorentino Doc, cresciuto nella Rari. Sì, e io mi coccolo Firenze. Senti, hai un portiere magari anche della Rari al quale ti ispiri e hai sempre guardato? Che mi ha anche allenato in giovine età, il buon vecchio Umberto Panerai. Lo sapevo, non ne avevo dubbi, non ne avevo dubbi che fosse Umberto Panerai. La grande tradizione, Tempesti, Panerai continua con Massimiliano Cicali. Me lo auguro vivamente, lo spero. Grazie, grazie Massimiliano, uno dei migliori in campo assolutamente e ci vediamo alla prossima partita. Giocherete a Brescia mi pare? La prossima partita è la Salinga col Brescia, sì. E sarà uno scoglio arduo, ma con Massimiliano Cicali, le sue mani e le sue parate su rigore siamo assolutamente tranquilli. Grazie Massimiliano. Grazie a voi, buona serata.